But first, let me check a selfie se voi non vi ricordate, se voi siete dei nostri fan sfigatati, ricorderete soprattutto lui che allo speciale 30 iscritti a lui, a rallentatore, a rallentatore era Diceva, oicino a manger Riprendiamo più da vicino e lui, era solo un po' più truccato Vabbè, cosa diremo oggi? Cosa dirà oggi? Allora, noi inizieremo a fare il bar simulator Molto presto, ma veramente presto Se mai lo facciamo, non lo so, sempre con lui Venerdì, senza di loro Siamo almeno, i cazzi vostri sono Comunque, per questo speciale del complanno di che ho deciso di scaricarmi degli effetti a pagamento Che adesso sono iscritti Con i big money Che sono i seguenti No, passamola a me, passamola a me Aspetta Aspetta Ah, grazie, mi grazie No, io parlo a freccetto No, ma l'hai finita da me Allora, togli, togli, togli Che te la tolgo Te la venivano impizzare a te E l'angelo, ecco Ah, mi fa male la testa Dicevo un po', da stamattica Io pensavo che ero diventato un anno più vecchio Però pur per la freccia Oh, salve ragazzi Scusa, me ne abbiamo fatto nell'anno 80 Questi, questo, questo visbio Aspettatevi un attimo Sempre in questo No, comettetevi sempre Belli, parlo No, no Ehi, faccio un jazz Io sono il bambino No, 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 no Dice, capo, capere Non è una costa guffa, vai No, perché non sono uscita Perché sono le mani lottando Ah, va Tu non dovete stare Ma dovete stare No, non te la do No, no, ma ce l'hai già le cuffie E vai E vai, è questa tua Ma, va, va, va E io le farò un bambino Ma, va, fa il culo Fumata bianca Siamo ritornati nell'anno 2014 Fortunatamente Ah, ma i palli Ti si accandano Voglio Mi ricordo Le regno a fondo Che ci avevano sparato Ah, veramente Parla un po' Tutti disavano Che dici Allora, io sono bravo Il pianista Sono così bravo Che il mio pianoforte Si è rotto Ti faccio vedere Le condizioni classime Del mio pianoforte Che si fa così Non mezzetto Perché è staccata la presa Perché Ho preso Sto staccato Però se non attacchiamo No, non attacchiamo Ecco, mi sa che funziona Aspettate, la tengo io No, non funziona lo stesso Devi alzare il volume No No Non funziona Ok Vabbè Non lo capisco Certo Che non Vabbè Ritorniamo alla vita quotidiana Del giorno Sono uscita anche Poco a poco La nervo Quando il padrino Che è uscito prima Usava Il micro Ok E la sembra io Il mouse di mio cugino Ecco Condizioni pessime Ma pessime Che oggi vi parlo D'un occhio a luna Oggi voglio limitare A Golden Gen 99 Aspettate Un due secondi Vi parlo E vi spiego io Mettiamo alle 89 Allora Facciamo un po' di effetti adesso Perché è bello Poi facciamo la parodia Allora Oddio Oh scusa Ma Do te ne esci tu Vabbè dai Vi lascio la parodia Allora Questo Allora Andiamo su un testo Questo Un occhio a luna Sto a perso Quindi Sto a passare Lo facciamo In questo modo Stoccare Questo coso E aprirlo Così E più feschi Si è scritto Nostia S1430 Ma A A A A A 3 7 B 3 H B VELU Sigi Sì il Nokia Lumia, lo savo messo sui consigli, tanto che è arrivata un po' di penna blu sul mio Nokia Lumia, che infatti ho denunciato la mia app traverso l'estra proprio per questo, guardate. Sono arrivato le patasine, le patasine è una cosa nata quest'anno, e mangiamo. Delicioso! Sembra la pizza delivery quando si droga. Ma questo è più bello, questo è più swag. Io ho mangiato una patatina e poi basta. Stiamo fregando tutte le patatine e per questo noi concludiamo qui il video. Vabbè. Quindi dal mondo di Minecraft, che dire, se il video vi piaciuto come al solito mettete un mi piace, lasciate un commentino bello qui sotto e poi mettete delle foto belle sull'hashtag di Instagram, ma ce l'ho proprio tutta peccato, e vado a focassare tutti. Grazie. 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 Grazie.